Siamo in collegamento con il sindaco di Tossicia, Emanuela Rispoli. Il primo cittadino del comune di Tossicia è risultato positivo al Covid. Sindaco, da quanti giorni è a casa? Io sono a casa da sabato scorso, quindi è già una settimana oggi, completa. Intanto come sta? Oggi sto decisamente meglio. È stata una settimana intensa perché questa forte influenza mi ha messo molto a terra, però sono contenta perché oggi inizio a vedere i primi segnali di ripresa. Come si accorta di essere positiva al Covid-19? Ho avuto la perdita del gusto e dell'olfatto. Quindi questo è andato avanti dalla mattina di sabato, poi a pranzo non ho sentito più il sapore e i profumi e quindi mi sono subito messa in contatto con il mio medico in isolamento, ho fatto il tampone e ha confermato i miei dubbi. Quindi la febbre non aveva febbre, soltanto una questione tassi diciamo. Sì, è iniziato tutto così, dalla perdita dei due sensi, poi qualche linea di febbre nei giorni successivi, molta debolezza e stanchezza, classici sintomi del Covid, un po' di affaticamento. Sta assumendo qualcosa, sta prendendo qualcosa? Sì, da giovedì abbiamo iniziato la cura, abbiamo perché anche il mio compagno, ahimè, è positivo e sta combattendo con la febbre alta lui, ancora oggi. Sì, stiamo facendo la terapia che i nostri medici ci hanno consigliato. Bene, la situazione invece nel suo comune qual è? Non c'è una situazione preoccupante da quello che ho capito e che ho letto nei giorni scorsi a proposito dei dati? Sì, noi abbiamo sulla carta 26 positivi, tutti nuclei familiari diversi, ma alcuni di loro si sono negativizzati di questi 26. Quindi questo è un segnale positivo e alcuni dei miei positivi stanno facendo la quarantena in altri comuni, dove hanno il domicilio. Devo dire che i miei concittadini si stanno rivelando molto, molto responsabili in questo momento. Bene, quindi quanti altri giorni dovrà rimanere a casa in base al protocollo previsto in questi casi? Sicuramente fino al prossimo tampone che è previsto per la fine della prossima settimana. Sì, attenderemo l'esito, quindi tempi tecnici, grosso modo sicuramente altri dieci giorni, sicuramente. Poi speriamo di… ecco, ma l'importante è stare bene, se si deve rimanere qualche giorno in più non fa niente, l'importante è stare meglio. Quindi lei segue l'attività amministrativa direttamente da casa? Sì, nei giorni passati è stato un po' difficile, però già da ieri pomeriggio mi sono rimessa in carreggiata e riesco a seguire l'emergenza sanitaria e dare anche supporto ai miei concittadini che non vedendo il sindaco presente ovunque e così sul territorio si preoccupano. Io cerco di rincuorarli anche perché oggi sto decisamente meglio. In amministrazione non ci sono altri casi? No, non abbiamo avuto altri casi, ci sono stati sicuramente dei miei collaboratori più a contatto con me, si sottoporranno a tampone all'esito di questi giorni che hanno pure loro fatto in isolamento fiduciario, per dovuta responsabilità, ma non ci sono attualmente positivi all'interno del comune, anche perché noi abbiamo sempre rispettato tutte le regole, si continuano a rispettare le regole del distanziamento anche all'interno del comune, quindi della struttura, quindi fa molto questo.